Bustandoci tanto non sono uno che segue molto i profili social, i video e i siti altrui, il che è paradossale, però che ci posso fare? Tuttavia nei miei zompi qui e lì ho visto che ci sono sempre più colleghi che si occupano di marketing per psicologi, come per esempio quello di Damiano Ruggeri che mi piace molto, il che invece è ottimo. Infatti siamo una libera professione come altre e come altre è importante che noi aiutiamo i nostri clienti, le persone, potenziali clienti a capire i modi in cui gli possiamo essere utili. Nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapia e brevi sistemico strategiche dedichiamo qualche incontro ad aiutare i nostri studenti a migliorare questo aspetto e anche se non si tratta di concetti di terapia breve ogni tanto lo faccio anche in questi video. Non parlo di marketing che in realtà è un nome inappropriato perché è solo una parte della promozione e non ho la pretesa di spacciarmi per un esperto, non voglio spacciarmi per un esperto non ho la pretesa di esserlo perché non lo sono, però ci sono alcuni apprendimenti che ho fatto che mi sono stati utili e magari posso dire ciò che ha funzionato per me e che spero possa essere utile per i giovani colleghi. E una di queste cose è la risposta, secondo il mio personale punto di vista, alla domanda sito web o social? Ecco la risposta per me è semplice, sito web e social. Se dobbiamo fare una metafora mi piace farla così, il sito web è il cuore, il centro della città di cui tu sei il sindaco, i social sono la periferia e le strade che portano a quel centro. Se hai solo il sito oggi è molto improbabile che le persone riescano a trovarti, faranno anzi abbastanza fatica a raggiungere quel centro e a conoscere quella parte di te che veramente ti contraddistingue e ti caratterizza. Tra l'altro, se ci pensi, sei solo un sito, solo il centro di una città, è probabile che la gente non ci arrivi perché sei troppo piccolo, troppo poco visibile e soprattutto lontano dalle arterie principali e dai mezzi di spostamento che la gente usa di più, dagli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le tangenziali, le autostrade. Tu ci sei ma la gente non riesce ad arrivare a te. Ok, questi sono i risultati di troppe ore passate da piccolo a giocare a SimCity, però spero che abbiano dato un pochino un'idea. Hai sicuramente bisogno di un sito che parli di te, che ti caratterizzi, che sintetizzi in sé tutti i contenuti e gli aspetti che riguardano te, magari attraverso un blog o dei video, che metta in cornice il tuo quadro in modo da farlo vedere meglio e a più gente possibile. Contemporaneamente però hai bisogno dei social perché hai bisogno della periferia che parli del centro, che porti le persone al centro e che abbia le strade per arrivarci perché altrimenti non arriveranno mai a te. Detto in sintesi, i social sono fondamentali perché sono la periferia su cui c'è la maggior parte delle persone, sono i punti dove le persone passano più tempo, trascorrono più tempo. Quindi ne hai bisogno anche se da sole non sono abbastanza. Quindi i social ti permettono di farti trovare ma da soli non sono abbastanza, non permettono di sintetizzare la tua immagine, di farti parlare. Il sito ti permette invece di farti parlare di te, di spiegare compiutamente chi sei, però da solo rischia di non essere trovato. Poi ci sono una serie di altre considerazioni tra cui, ne so, il fatto che tutto quello che pubblichi su un sito rimane di tua proprietà mentre se pubblichi un contenuto su Facebook è di proprietà di Facebook e se domani Facebook decide di cancellarlo, cosa che è avvenuta, avviene, tu ti attacchi. Insomma, piccolo contributo, neanche nuovo, scandellare queste cose, per esempio, le dici da tempo e non è l'unico. Spero però che abbia raggiunto qualche collega in più che vede tipicamente questi video e che lo abbia aiutato a trovare, a capire dei modi migliori per farsi raggiungere.